Non sappiamo se esistono altri video che documentino il record di palleggi con una pallina da tennis, ma sappiamo per certo che un ragazzino di scicli, Cristian Burletti, sia riuscito a fare ben 469 palleggi consecutivi. La prova in un video di 4 minuti e 29 secondi postato su YouTube dal padre e girato dal fratello gemello di Cristian Emanuele, che adesso sta facendo il Giro del Web. Una prova visibile della bravura, della tenacia e della concentrazione di questo ragazzo 14enne iscritto al secondo anno del liceo scientifico e con la grande passione per il calcio. Abbiamo incontrato Cristian davanti casa sua, proprio tra le vie del quartiere, dove giocando con il fratello e gli amici ha mosso i primi passi calcistici e dove è nata la voglia di mettersi alla prova con uno dei gesti tecnici più complicati del calcio, ovvero i palleggi. Già qualche anno fa aveva fatto più di 4000 palleggi consecutivi con il pallone da calcio e ora sta già pensando a battere il suo ultimo record. La passione per i palleggi è nata innanzitutto dal pallone da calcio, con cui precedentemente ero riuscito a fare 4000 palleggi ed era il mio record. Poi i palleggi con la pallina da tennis è stata una cosa per provare a fare una cosa diversa e alla fine sono riuscito a fare un record con la pallina. Per adesso sono soddisfatto del record perché per ora credo che sia un buon risultato però più tardi in seguito proverò a battere anche questo record.